Un'ora 19 e un quarto, ci troviamo a una zona di Fratta Maggiore e vedete il grosso incendio che si è sprigionato, che è stato appiccato dalle solite bestie non sappiamo dove, che zona è, là sarà Fragola, Caevano Signori, oggi lunedì, ore 19 e 15, l'ennesimo rogo appiccato ai danni della salute dei cittadini ieri padre Maurizio Patriciello ha lanciato un appello, non sappiamo chi deve raccogliere questo appello vedete che noi ci troviamo qua a Fratta Maggiore, zona periferica, zona di Esepe Nuova e vediamo questo grosso rogo, questo grosso incendio e vedete la nube tossica, come si stende tutta l'aria eccola, quella è tutta l'aria che respiriamo vedete vedete chi dobbiamo dire c'è un silenzio assurdante terra mia, terra mia, terra mia come è bella la puntata vedete come è bella la puntata come è bella la tempata come è bella la puntata Terra di fuci è una vergogna Terra mia, terra mia e mi assento a libertà